Destra ancora all'attacco dopo le parole del Premier. Ne parliamo in diretta con il leader della Lega, Matteo Salvini. Buonasera, buonasera senatore. Allora, alla vostra accusa di alto tradimento, Conte ha replicato il MES esiste dal 2012 e per noi non è uno strumento adeguato. Ma guardi, non perdo tempo a far polemiche. Ieri sera mia figlia mi ha chiesto papà, ma perché quel signore in televisione ce l'ha con te, ti attacca e ti insulta? Mi ha detto, lascia stare, è Pasqua, si perdona. Più che gli attacchi di Conte, e io ricordo che la Lega è stato l'unico partito italiano ad aver votato contro il MES sia a Roma che a Bruxelles, e chi dice il contrario mente, devo dire che mi è dispiaciuta di più la chiusura alle proposte che abbiamo fatto per migliorare i decreti del governo. Avevano chiesto di rinviare il pagamento delle bollette per le famiglie fino a settembre, ci hanno detto di no. Avevano chiesto di dare un contributo per chi non ce la fa pagare l'affitto, ci hanno detto di no. Sulla cassa integrazione avevamo proposto il pagamento diretto, banca, azienda, lavoratore, senza la mediazione dei sindacati, ci hanno detto di no e nessuno ha ancora visto una lira. Quindi sono più che altro dispiaciuto perché pare che qualcuno voglia far da solo e non ci ascolti, le offese mi scivolano addosso, è Pasqua e perdoniamo tutto. Stamane lei ha avuto una telefonata con il capo dello Stato, ritiene che ci siano i margini per una ripresa del dialogo con il governo? Noi continuiamo a dialogare, tutti i nostri sindaci, tutti i nostri governatori, l'emergenza è trovare bombole d'ossigeno, trovare mascherine. Se non ce le garantisce lo Stato centrale le cerchiamo nelle regioni, le cerchiamo all'estero. Io l'ho detto al Presidente Mattarella, sono molto preoccupato per la situazione economica perché è la Svizzera che è al confine con noi, versa fino a 500 mila euro sul conto corrente degli imprenditori compilando un foglio. Qua siamo già al quinto decreto, centinaia di pagine, consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti che non sanno come districarsi. Quindi spero veramente che il governo non pecchi di presunzione dicendo facciamo tutto noi perché siamo più bravi e siamo più belli. Le faccio solo un esempio, noi abbiamo proposto di aumentare lo stipendio di medici, infermieri e personale sanitario, detassando il 70% del loro stipendio perché stanno facendo un lavoro enorme. Ci hanno detto di no. Ecco, spero che qualcuno non dica di no alle proposte che arrivano da Salvini e dalla Lega solo per fare un dispetto politico perché affitti, bollette, mutui riguardano tutti gli italiani. Quindi spero veramente che ci sia questa voglia di collaborare. Noi siamo pronti. Chiaro, grazie, grazie e buonasera Senatore. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a voi.